Dopo i primi 50 metri Abaco con Odoardo Baldi si adattò a prendere la mia schiena, feci un chilometro di tutto comodo anche se erano tempi diversi come velocità da adesso, però addirittura da 23-24 era veramente piano. E poi gli ucciso 300 metri Abaco spostò, metà dell'ultima curva mi venne fino a mezzo cavallo e lì furono un po' di suspense, poi invece in boccaletta arrivo anche Abaco che era stanco, anche lui dalle due prove, si ripiegò e presi quella lunghezza e mezzo di vantaggio e la portai fino al palo e lì ebbi questa grandissima gioia, questa grande soddisfazione. Ma questa forse, non so, l'ho preferita forse al derby perché è stata sofferta, perché è durata...